eccomi 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 buonasera amici e amiche rosso neri ragazzuoli e ragazzuole belle ma come state buona serata di questo magnifico venerdì 24 febbraio 2023 ore 19 19 o ma manco farla apposta quando capita il 19 19 veramente una roba incredibile sì buona serata buona giornata se mi vedi di sabato 25 febbraio di domenica 26 27 28 29 tre quando cavolo mi vuoi sì perché per noi milanisti questo venerdì 24 febbraio sarà ricordato come il giorno 2023 24 febbraio 23 sarà accordato come il giorno della svolta del milan è sì è una data importante è una data oggi importante anche per un altro evento che è stato purtroppo un evento diciamo nefasto ricordato oggi però per noi milanisti questa sarà una data importante ragazzi questo è un dato di fatto allora stamattina vi spiego in breve mi sveglio la prima cosa che faccio lo dico tranquillamente non è che tanto un mistero no vado a leggere un attimino la gazzetta online e quant'altro e cosa ti vedo ti vedo questa magnifica notizia gerry cardinale ha deciso e sì ragazzi gerry cardinale ha deciso ma stai un po zitto a apple watch che veramente questo qui è contento anche lui è contentissimo ragazzi contentissimo niente allora praticamente la notizia è questa la sapete già è inutile che adesso ve la sto a ripetere gerry cardinale la sto a ripetere un attimino in breve volevo dire gerry cardinale praticamente vuole lo stadio solo per il milan si vuole staccare dall'inter e questa è la notizia in assoluto più bella più storica che potevamo avere negli ultimi periodi è una notizia che vale molto questa è una notizia che vale tantissimo vale come come vincere un altro scudetto la seconda stella come vincere una intercontinentale insieme a una champions league vale tutto quello che volete vale come una tonnellata di oro in lingotti ragazzi è una notizia veramente importante allora uno si può anche chiedere ma la gazzetta come fa a fare avere una notizia del genere a fare una scrivere una notizia del genere a fare una notizia del genere ma niente semplicemente perché ci sono dei canali privilegiati tra le testate giornalistiche quelle di una certa caratura di una certa vendita di una certa tiratura che sicuramente vengono informati questa notizia non l'avrebbe data se non avesse avuto una base di fondamento allora poi adesso vengo una riflessione personale perché ve lo dico subito io quando lancio una sezione community del mio canale i post e poi lo faccio anche nel mio instagram instagram privato privato e non pubblico a me piace leggere quello che la gente scrive come reagiscono le persone come voi che mi seguite reagite quello che scrivete e adesso veniamo a fare un ragionamento anche su quello ed è un mio ragionamento logico anche su questa questione per cui rifreschiamo un attimino quello che già sapete e che è una notizia stupenda ragazzi io lo champagne in diretta lo stapperò solo quando si avvierà il primo mattone quando verrà messo il primo mattone in video stamperò lo champagne il prosecco scusate quello che cavolo volete il lambrusco il barbera la vernaccia ma quello che cavolo volete il qualsiasi vino che volete qualsiasi vino che volete è chiaro qual è il concetto il canonau quello che volete lo stappo lo stappo lo stappo sì 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 lo stappo allora i tre siti in opzione per costruire il nuovo stadio del milan sono i soliti praticamente tra virgolette si fa per dire i soliti comunque uno che già conosciamo tutti sesto san giovane nell'ex area fa che chi è della zona di milano lo so già che area è un'area che conosco abbastanza bene perché passandoci davanti la conosco ex area falc per cui sesto san giovanni poi san donato per cui sotto il comune di rozzano questo è una zona un po più periferica a sud est di milano e poi dolci si infondo un'area che secondo me potrebbe essere molto molto appetibile per la decisione finale per me questa qua che vi dico adesso è lotta con sesto san giovanni la maura ma cos'è la maura allora la maura è l'ippodromo la maura chi ha dichiarato perché io ho già letto qualcosa su altre testate giornalistiche sportive è ex area trotto ma che se ex area trotto che cosa si chiama ipodromo la maura la zona è la maura dove c'è l'ippodromo la maura è chiaro qual è il concetto l'ippodromo la maura è a questa zona di questi tantissimi ettari di terreno che dista praticamente due chilometri dallo stadio san siro dello stadio giuseppe meazza e secondo me dai miei ragionamenti dei miei calcoli personali perché voi lo sapete ormai lo sapete che sono un sentenziatore un sensitivo io lo dico per scherzare l'ho detto sempre in video in passato ma ormai penso che ne avete la conferma perché il vostro alex cuorosso nero cioè io quando dice una cosa avviene sempre alcuni di voi mi hanno chiesto i numeri del superenalotto non ve li do i numeri di altre cose non ve li do qualcuno mi ha detto mi ha scritto anche che faccio paura faccio paura ma io lo so di essere così qualcuno può anche ridere tu puoi anche ridere ci mancherebbe ma l'ennesima conferma è quando dico una cosa succede avevo detto questo è un preambolo al sindaco sala lei sindaco sala rimarrà con un pugno di mosca in mano perché lo stadio in san siro nuovo non si farà e così succede godo come un pazzo e voi godete per cui fatto questo chiuso questa parentesi questo preambolo praticamente in base ai miei calcoli personali va da un senso punto di vista logico che a mio modo di vedere proprio scusate il gioco di prove sesto san giovanni se la lotta con l'ippodromo la maura la maura anche un punto vantaggio superiore se vogliamo se stanno giovanni perché essendo a due chilometri da san siro in zona lampugnano praticamente sei lì sei lì proprio sei sempre dentro milano per cui da un punto di vista di valore commerciale è un attimino e leggermente superiore perché voi dovete ragionare anche in termini di quelli che sono quelli che sponsorizzeranno lo stadio nuovo non solo chi lo costruirà ma tutto quello che ci andrà dentro cioè negozi fisici ristoranti bar questo e quell'altro e la lotta sicuramente forse potrebbe essere leggermente superiore quando sei dentro milano rispetto sesto san giovanni però questa regola è una regola che trova il tempo che trova tutti quelli che profetizzano che brand più noti che adesso non sto fare qua non so non so qualsiasi brand più nato che voi conoscete vengono più volentieri all'interno del nuovo stadio del milan alla maura che a sesto san giovanni è una balla perché puntualmente vengono sempre sconfessate certe cose che si pensa che si dà per scontato che poi non è così allora ragazzi per cui adesso partiamo per gradi con un mio ragionamento personale da qui in poi c'è un mio ragionamento personale allora sappiamo tutti con la partita anzi scusate nella partita contro il tottenham abbiamo fatto il record d'incasso cioè 9 milioni e 100 mila euro è il record non quasi assoluto diciamo che c'è un altro record mi sembra il primo posto di 9 milioni qualcosa adesso 9 milioni 100 mila euro abbiamo sbancato contro il tottenham che abbiamo vinto 1 a 0 in questi ottavi di finale nel girone di andata roba che praticamente l'inter l'altro giorno non ha fatto con il porto perché ha fatto 6 milioni qualcosa perché semplicemente per un motivo chi ci è andato allo stadio lo sa meglio di me tu che sei andato allo stadio lo sai meglio di me i biglietti hanno hanno sono stati venduti con un rincaro sostanziale del costo questo per farvi capire che il tifoso che ama la propria squadra fa quello strappo la regola in più per quell'evento eccezionale allora adesso con questo non dico che la nostra proprietà deve sempre fare questi prezzi alti per fare incassare tanto il nostro milano perché non può farlo è iniquo contro è iniquo contro il tifoso perché il tifoso non vuole sempre spendere soldone ma per gli eventi che contano eventi di cartello in champions league che contano il tifoso gli spende e scusatemi se è poco per una sera incassare 9 milioni e 100 mila euro scusate se è poco è una cifra già apocalittica perché parlo di questo perché sicuramente lo stadio nuovo deve essere uno stadio da 70 mila posti bene e qui mi fermo allora per cui gerry cardinale ha fatto capire la dirigenza ha fatto capire a sicuramente a giorgio furlani amministratore delegato del milan uomo di eliot che praticamente lui ha in mano la situazione per poter fare il nuovo stadio e nei vostri commenti ho già letto qualche cosa di strano è proprio vero che ognuno di noi ogni testa nostra è un mondo a parte ognuno di noi è un mondo è un mondo lo diceva anche l'attore Hugh Grant nel film di tanti anni fa about a boy che praticamente ognuno si fa la propria isola personale proprio il proprio mondo il proprio orticello personale io non voglio che tutte le persone seguano per forza i miei ragionamenti o mi diano ragione però c'è un punto in comune sul fatto che a voi quei pochi che contestano il fatto ma cardinale dove va a prendere i soldi ma a voi che cavolo ve ne frega ma secondo voi e poi ragionate su questo punto ma secondo voi uno come cardinale perché ha preso il milano l'ho già detto nei video in passato chi mi segue bene lo sa chi mi ascolta con attenzione lo sa secondo voi cardinale perché ha preso il milan perché ama il milan cardinale ha preso il milan per una situazione di business per gli investitori che ha alle spalle ma noi non ce ne frega niente a me non me ne frega niente di un uomo che ami per forza il milan perché è milanista basta che faccia il bene del milan ragazzi questo è un dato di fatto è inutile contestare queste parole che sto dicendo perché è un dato di fatto è la logica non è perché uno prende una cosa quella cosa la ama la ama perché è da bambino che così è un'occasione che è avvenuta che che si è posta e quella persona fa quel business e le persone che si impegnano nel proprio business fanno bene le loro cose questo è un dato di fatto io la lamentela che ho fatto ultimamente alla proprietà redbird è cacciare soldi per un acquisto forte per un giocatore forte va bene il money ball ma acquisto forte ci vuole se non quasi va male perché bisogna crescere anche dal punto di vista sportivo invece sul punto di vista invece finanziario e stadio io su questa proprietà non ho mai avuto dubbi e l'ho anche detto è chiaro baciare i piedi a elliot della mattina la sera dal punto di vista finanziario e come ci hanno fatto crescere e a cardinale non ho dubbi che le cose andranno bene in questo senso ma lui è venuto per uno scopo principale lo stadio perché nella prospettiva futura perché cardinale non terrà il milan una vita intera come ha fatto silvio berlusconi o come fece il moratti di turno o come stanno facendo gli agnelli adesso da cento anni il signor cardinale non terrà il milan per sempre lui quando rivenderà il milan lo rivende a soldoni pesanti perché abbiamo il nostro stadio galattico di proprietà notizia di questi giorni manchester united offerta arrivata da altania l'arabbia saudita di 6 miliardi di euro una cifra apocalittica è chiaro perché questi hanno anche il loro stadio galattico chiaro per cui detto ciò sono convinto che da questo punto di vista cardinale farà un ottimo lavoro dal punto di vista sportivo questi si devono dare una svegliata punto procediamo nel discorso di quello che stavo dicendo prima a voi che ve ne frega i soldi è ovvio che cardinale per fare un'operazione del genere li ha già trovati o li ha già in pancia nei propri investitori ma è ovvio ma scusate ma io lo dico anche qui simpaticamente parlando ma dormite o siete svegli perché a me sembra che ogni tanto i cervelli dormono con che soldi cardinale perché questi sono i messaggi vostri di alcuni non di tutti di pochi di pochi che ho letto dove li va a trovare questi soldi 600 700 milioni di euro a frescone 600 milioni di euro il resto in moneta a frescone a sveglione sveglia di che dormi sveglia di che dormi tu dormi 600 milioni il resto in moneta lo stadio a noi costerà per 70 mila posti tra una balla e l'altra 800 milioni di cocuzze se non per andare a perché poi quando un progetto viene firmato viene approvato allora ve lo dico subito come va a finire perché chi ha costruito casa chi ha costruito un appartamento chi ha fatto le cose lo sa firmi per una cifra poi costantemente la cifra è sempre superiore tu firmi per farti la tua casa a 200 300 mila euro per prendere il tuo appartamento 100 mila euro sai già che quei 100 mila euro non saranno mai diventeranno 120 la tua casa da 200 mila diventerà 250 da 300 entrerà 350 lo stadio da 800 passerà 900 cardinale gli investitori già ce li ha sono lì già pronti come dei falchi per mettere le mani su questa questione perché poi negli anni negli anni questi quando rivendono il milan soldi appalati incassano per loro è una goduria ma lo sarà anche per noi perché diventeremo ricchissimi cioè il fatto che loro cardinale red bull fa le cose fatte per bene fa lo stadio solo per noi è propedeutico al fatto che noi economicamente diventeremo una potenza e allora lì sì che per vezzo prenderemo un giocatore da 110 milioni di euro uno chiaro per cui qui archivio già questa stupidata del cardinale dove vuoi trovare i soldi altra stupidata che ho letto ci sono già gli interisti che si intromettono nella mia community come lecitamente possono fare siamo per fortuna leggermente ancora una democrazia in futuro non lo so però giustamente dicono a noi la scala del calcio a voi lo stadio di periferia bene allora caro interista visto che tu hai un inter che ha 390 milioni di euro di debiti una praticamente una voragine di debiti su debiti che il tuo caro presidente zang non sa ancora come risolvere deve solo pregare che chi comprerà l'inter si accolerà questa voragine pazzesca di debiti e io dico una persona sana si accolla a una voragine del genere non penso di fatti fino ad ora non è avvenuto perché voglio ricordare voglio ricordarvi che ci sono degli youtuber interisti in youtube che praticamente solo loro quando parlano sembravano degli dei in terra nemmeno ne hanno mai zaccata una e dicevano costantemente io ho una notizia che arriva direttamente dall'arabbia saudita che pif compra l'inter e addirittura l'inter doveva arrivare alla vigilia di natale doveva arrivare a natale doveva arrivare l'ultimo dell'anno e non è mai arrivato ed è già passato un anno e mezzo questa è la verità la verità è che il progetto elliot ha pagato fin dall'inizio chiaro chiaro è chiaro qual è il concetto bene poi anche qui per rispondere a quei pochi elliot out sì bene però c'è un piccolo problema dovresti baciare i piedi ad elliot per arrivare a questo punto della situazione questo l'ho sempre detto discorso diverso discorso sportivo chiaro attuale non passato attuale per cui questi dicono mi tengo la scala del calcio bene allora abbiamo capito che l'inter è indebitato fino al collo una voragine pazzesca la scala del calcio il politecnico di milano esattamente tre anni fa aveva fatto un calcolo che per rifare un livello estetico dignitoso che sia appena appena tra virgolette accettabile nei confronti di altri stadi moderni in europa dove il calcio conta praticamente devi mettere mano al portafoglio per 300 milioni di euro prima si era partiti a 250 adesso si è già arrivate a 300 giusto giusto per fare appena appena un restyling però san siro rimane sempre una struttura vecchia l'avete letto ultimamente c'è una parte alta di san siro una parte alta di san siro che si sentono degli scricchioli molto forti però gli ingegneri hanno detto non c'è nessun problema per la sicurezza dello stadio tutto il resto per cui noi ci dobbiamo fidare della loro consulenza e della loro stima della della situazione dello stadio ma rimane pur sempre una struttura vecchia e anche se fai questo restyling non seguirà mai quello che è il contorno degli nuovi stadi che ci sono adesso per cui se tu sei contento di dire mi tengo la cat tu interista mi tengo la cattedrale di milano tieniti la cattedrale di milano non c'è problema noi milanisti guardiamo verso il futuro perché il mondo va avanti non va mai indietro rispettando anche quello che ci ha dato san siro nella nostra storia nelle nostre vittorie nelle vittorie del milan il secondo club ancora più titolato al mondo per cui questo è quanto tieniti la tua cattedrale non c'è problema noi andiamo avanti giusto per cui rispondo anche quegli interisti che scrivono queste cose ragazzi io vi dico la verità il video sta già durando abbastanza adesso vi saluto io sono veramente felice di questa notizia e voi non vi vedete forse neanche conto quanto sono talmente felice che stamattina ero completamente in aria ve lo dico sinceramente io dico solo a mister jerry cardinale mister jerry cardinale scelga l'opzione che voi pensate migliore per il nostro milano non preoccupatevi di altre cose quel comune lontano perché il popolo che ama il milan seguirà il nostro milan anche se lo farà praticamente a san donato che è praticamente un po più lontano se lo farà sesto san giovanni o se lo farà la maura mister cardinale lei l'unica cosa che deve fare deve fare bene il suo lavoro come io ho spiegato adesso in video sappiamo già io so già che poi quando tutto il pacchetto sarà confezionato lei a chi di dovere in futuro fra qualche anno fra un po di anni lei venderà il milano a qualcuno di ancora più potente perché è solo grazie molto probabilmente non dico solo a noi ma anche gli altri che forse ci seguiranno con gli stadi non lo so io dell'inter non me ne frega niente loro si tengono loro san siro non c'è problema ma anche qui l'avevo sentenziato l'avevo sentenziato l'inter deve tenersi san siro a noi il nostro nuovo stadio però saremmo noi proprio con questa proprietà coraggiosa e forte questo va de questo su questo settore va detto che faremo scuola per l'ennesima volta in italia vi mando un abbraccio forza mina sempre comunque ovunque è uno spettacolo ciao